Buongiorno a tutti, sono Alberto Fragasso, antropologo e mi sento felice ed entusiasta nell'annunciarvi che molto presto comincerà una terza edizione di Danzare con la Tempesta. Questo ciclo gode della splendida partecipazione di nuovi compagni di viaggio e collaboratori. Il primo fra tutti è Il Giardino dei Libri, che ospiterà le nostre puntate sul suo sito e sulla sua piattaforma webinar insieme all'Italia che cambia ed Ambrita Edizioni. La prima puntata sarà il 12 di ottobre, lunedì alle 20.30, insieme ad Angelo Vaira, formatore ed esperto nella facilitazione della relazione con il cane, e Valeria Guassier, altrettanto esperta in Animal Communication, una tecnica che permette di entrare in comunicazione con il proprio animale domestico in un modo nuovo o forse in un modo molto antico che ci siamo dimenticati. L'incontro è interamente dedicato al mondo animale di cui anche noi esseri umani facciamo parte e ci aiuterà a ricevere una nuova coscienza rispetto al nostro approccio e contatto con questi esseri viventi. Importantissimo perché ci dimentichiamo molto spesso che anche noi esseri umani siamo animali e facciamo parte di questo grande cerchio della vita. Per cui una puntata da non perdere, tenete caldi i divani, le sedie e ci vediamo presto. Buona giornata!